Ciao a tutte ragazze mi sono svegliata da poco sarà una mezz'oretta e siccome mi stavo preparando per uscire ho detto facciamolo davanti alla videocamera anche perchè avevo un po' di voglia di parlare e quindi ora mi tolgo gli occhiali non vedrò più niente però volevo parlarvi di alcune cose allora ieri cioè ieri non era ieri era l'altro ieri perchè oggi è sabato e io sono stata giovedì da Kiko e praticamente sono stata a vedere la nuova collezione un po' perchè mi interessava principalmente innanzitutto sto mettendo il campioncino questo del primer potion quello anti-age che si trova all'interno della Naked 3 e volevo vedere la nuova collezione non è che mi sia piaciuta tantissimo mi piace però sono tutte cose già viste la maggior parte la parte magari i blush che hanno una confezione diversa o comunque la terra che ha un disegno carino però non c'è niente di eccezionale ecco forse è per questo che non mi è non mi è sia sabato diciamo più di tanto e metto come base il 34 il long glassing della Kiko soprattutto perchè io adoro i prodotti in crema e era andata a vedere i nuovi ombretti però del praticamente di quei colori lì già ce li ho io che sono un amante del viola c'era mi sembra un borgogna e nessun nessun viola c'era un rosa però niente di che nel senso non non è che mi ha impressionato più di tanto però boh non lo so prendo limit e cioè non è che non mi ha entusiasmato però mi aspettavo qualcosa di meglio diciamo non lo so è un'impressione ma vedendola dai video mi sembrava magari vedendoli le collezioni o quello che prendevano boh mi sembrava una cosa più carina sono ho acquistato vabbè uno smalto di quelli cupcake perché era andato principalmente per per quello perché mi interessavano i nuovi smalti li avevo visti da Samantha signorina blog e mi incuriosivano parecchio e era andata principalmente per vedere quelli infatti ne ho presi uno ho preso quello su Lilla non mi ricordo il numero credo 653 ma non sono sicura e mi sono fermata a guardare i nuovi i nuovi i nuovi rossetti stilo com'è che si chiamano stilo mi sembra adesso adesso ho preso un owner per andare nella piega mi sembra si chiamino stilo ero ferma praticamente davanti alla davanti allo stand è arrivata la commessa e mi ha detto sono bellissimi durano tutta la giornata sono opachi belli belli io ho detto ma infatti stavo guardando e mi ha detto ma guardate mi ha detto hai qualcosa sulle labbra gli ho detto no ma io non avevo ragionato a quello a cui voleva regare lei sinceramente ha preso il tester di uno dei rosa che io avevo guardato cioè più che rosa era tendente diciamo sul viola che io avevo guardato e mi ha detto beh se non hai niente sulle labbra se lo provo ora l'ho guardata e io ho detto ma non con il tester questo e mi ha detto beh sì ha fatto se no ha fatto come faccio a provartelo no io ho detto guarda grazie non non mi interessa mi ha detto sì ma i tester anche se li provano sono tutti disinfettati cioè no io sulle mie labbra ora non so se sono io troppo schizzinosa però io sulle mie labbra un prodotto che minimo avrà toccato centomila mani e sarà passato praticamente da sotto centomila persone no assolutamente no cioè proprio non esiste e la commessa cioè era pure scocciata perché praticamente io non avevo accettato diciamo di di provare questo rossetto però a me faceva proprio schifo l'idea di provare un rossetto sulle labbra che comunque era già stato toccato da altre centomila persone no questa è la non glassing della essence e quindi ho detto vabbè niente e sono uscita senza averlo preso anche se effettivamente mi incuriosivano parecchio però i colori sbocciati dalla mano non cioè per me il problema fondamentale che ha Kiko in negozio è che le luci sono proprio strane che io dalle luci del negozio non riesco mai a capire che cavolo di colori sono perché alle luci molto sparate sopra i prodotti e quindi non non riesco bene a distinguere se il colore è più tendente diciamo sul rosa non non lo so però ora staremo a vedere più avanti se ne acquisterò qualcuno adesso per il momento non mi interessa no e sono stata anche da Ticotà perché avevano tirato fuori l'offerta quella della pupa che se acquisti io non capisco perché non riesco a prendere l'ultima parte delle mie ciglia queste qui vabbè se acquisti praticamente un mascara uno della pupa vamp cioè se acquisti beh ragioniamo se acquisti il pupa vamp in mascara ti danno praticamente un mini ombrettino vamp in omaggio e se acquisti un ombrettino vamp ti danno un mini mascara in omaggio sono andata da tigota soprattutto perché volevo prendere il cioè cercavo fondamentalmente un mascara marrone ah è un mascara che mette sempre questo il better than sex della Too Face perché volevo prendere il mascara marrone e ho trovato il i pupa vamp ora non so sinceramente nell'altra profumeria quanto costino però il vamp marrone cioè insomma il mascara normale pupa vamp e lì veniva 8,90 euro e dal momento che Kiko non ha fatto altre offerte per i mascara perché fino all'ora di mascara marrone ho provato solo quello di Kiko e ho preso quello sono arrivata a pagare e ho chiesto alla commessa come funzionava questa cosa ora 100.000 telefonate e chiamali qua chiamali là nessuno sapeva dell'offerta e allora ho detto va bene non importa tornerò a prendere il mascara un'altra volta perché volevo vedere che colori c'erano soprattutto perché io ne ho uno di quelli in polvere di pupa vamp e devo dire che a me piacciono molto quindi era un modo per provarne un altro però non non ci siamo riusciti abbiamo dovuto ho passato mezz'ora in negozio e alla fine ha detto sì ma lo sai che hai ragione ha detto c'è quest'offerta e mi ha dato un ora se riesco a trovarlo la scelta era tra quattro colori e io ho scelto questo qui che per farvi capire questo è piccolissimo però è un colore molto bello questo è il numero 300 sono quelli cotti questo colore qui ha un verde bello ora ancora non l'ho provato però il colore sembra molto bello solo che come notavo praticamente non mi ricordo chi è che lo diceva mi sembra prima che ho visto un video di Jessica dei russi attati spero di averlo pronunciato bene e diceva praticamente che dati di vota ma come la maggior parte dei posti queste offerte qui che comunque non sono fatte ah prendo work of shame per metterlo sotto l'arcata e come diceva praticamente lei anche le offerte bisogna comunque secondo me richiederle in negozio io si è vero ho dovuto aspettare mezz'ora però alla fine me l'hanno data diciamo e lo stesso mi era capitato sempre la ticotà quando ero andata lì praticamente per prendere i pennelli perché con i pennelli in offerta davano pure il brush cleanser il detergente praticamente e io ho comprato due pennelli ho chiesto il brush cleanser e la commessa mi ha detto che loro non ce l'avevano però era da loro catalogo che c'era questa cosa insomma quindi vabbè non lo so cosa che non c'entra assolutamente niente con tutto questo sto guardando sempre più spesso i video quelli degli usati della settimana e è un video che mi piace particolarmente più che altro perché mi sono resa conto che io ho tante cose come comunque la maggior parte di noi abbiamo tanti trucchi e forse quello potrebbe essere comunque il modo migliore per cercare di diciamo usarli il più possibile perché io cioè non lo so io sono una persona che comunque se decido di fare una cosa poi la faccio cioè non è che qualsiasi cosa come per esempio i prodotti terminati non è che butto via i prodotti per farvi vedere che li ho finiti perché sinceramente non mi interessa perché i soldi sono i miei per comprarli quindi no non vale la pena questa cosa quindi mi piacerebbe fare questo genere di video soprattutto per metto il correttore questo di bottega verde che non ho capito perché non finisce cioè non ho capito perché no non ho capito c'entra niente non ho capito però mi interessava ecco continuiamo mi interessava fare questo tipo di video per poter dare magari un pochino di giro diciamo soprattutto le palette magari anche alle matite per poter no smaltire però utilizzare in modo migliore o comunque per utilizzare più diciamo i trucchi che ho perché non credo di essere l'unica ne ho diversi quindi ma non lo so naturalmente se qualcuna delle ragazze che lo fa oppure non so se magari mai Elisa le murkoma vedrà mai questo video però se non vi dispiace piacerebbe anche a me fare questo video mettiamo il correttore cerchiamo di coprire questi occhiai e mi piaceva fare questo video perché poi adesso che anche ha iniziato Alessia sarà che io maggiormente guardo di questo genere quelli di di Alessia e quelli di Alessandra dei Gilmore Addicted Alessia e le donne vengono da Marte perché vabbè innanzitutto trovo molto piacevoli guardare molto piacevoli guardare proprio i loro video in generale ah con Alessandra mi faccio certe risate assurde anzi questa settimana mi ha ricordato anche di Sailor Moon che è una cosa mamma mia vabbè ero cioè mi ricordo che c'era quando tornavo a casa che facevo le medie credo e la guardavo sempre Sailor Moon e ero praticamente pazza per Sailor Mars quindi mi piacciono in generale i loro video quindi li trovo molto piacevoli anche da seguire è un modo secondo me per sfruttare appieno comunque anche tutti secondo me i trucchi che si hanno per dargli magari modo di poter girare non lo so mi piaceva fare questo video passiamo a mettere la cipria questa qui è la Benecos e insomma niente adesso oggi è sabato andiamo cioè andiamo vado perché mio marito il sabato lavora quindi vado a fare la spesa non devo comprare niente di che fare la spesa proprio in generale per casa poi se faccio in tempo passo dal negozio questo che è qui sotto casa mia a prendere le Yankee Candle ma dipende a che ora finiamo cioè a che ora torno di fare la spesa perché ora sono le nove e mezza e questa sera abbiamo degli amici a cena quindi devo ragionare anche che cosa fare da cena prima di andare a fare la spesa e domani che è domenica sì forse andremo a fare un giro ma non lo so perché mio marito lavora anche la domenica ogni domenica quindi la mattina non solo la mattina però bisogna anche vedere lui se si ha voglia di uscire e poi faremo qualche cosa un giro così metterò una tira per le sopracciglia io avevo voglia di andare al cinema a vedere non so è un film molto leggero ma mi piace e volevo andare a vedere una non mi ricordo il titolo una donna per amica quello con Fabio e Luigi uno perché a me piace tantissimo Fabio e Luigi ma proprio tanto 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 e quindi mi interessava andare a vedere questo film però non lo so può darsi anche che ci andremo domani pomeriggio ora tutto da vedere e niente tra l'altro a proposito di Kiko adesso che non c'entra niente ieri ho visto il video sempre di Alessia le donne vengono da Marte che parlava della nuova collezione di Kiko cioè non parlava della nuova collezione di Kiko mi sono espressa diciamo male che parlava di metteva a confronto due rossetti uno Kiko e l'altro aspettate che dobbiamo trovare il pennello ok uno Kiko e uno di Wicon e faceva vedere i famosi Lip and Cheeks diciamo di Kiko che sono anche nella nuova collezione e lei faceva vedere mi sembra quelli della collezione ora non vorrei dire una cavolata dell'anno scorso e chiedeva una conferma io gliel'ho scritta anche sotto al video io l'ho vista da Kiko sono cioè sono praticamente identici sono identici a quelli dell'anno scorso uguali infatti anche questa cosa di Kiko io non la capisco perché cioè sto scegliendo un blush nel frattempo ora se ce la facciamo ok questo qui di Deborah che è molto naturale che si chiama Maugani numero 6 cioè questa cosa di Kiko io non la capisco perché cioè allora la nuova collezione va benissimo a parte che ultimamente ha fatto uscire un sacco di collezioni nel giro di pochissimo tempo però vabbè vabbè parte questo però cioè secondo me no non ha senso cioè seguivo proprio il ragionamento che diceva Alessia no secondo me non ha senso che tu fai uscire una nuova collezione nuovi prodotti però i prodotti fondamentalmente sono gli stessi e non sono cambiati nemmeno tanti colori perché io guardandoli e più che altro il discorso dei colori ci avevo fatto meno caso però poi ieri guardando il video di Alessia cioè effettivamente i colori che io ho visto in negozio e i colori che la collezione l'anno scorso io ne ho uno o due credo ora non so perché sull'anteprima sembro fucsia sulle guance ma non sono così vi posso assicurarvi o almeno spero ma non mi sembra perché ho anche la luce davanti quindi vedo quello che faccio cioè c'è lo specchio e i colori sono praticamente identici quindi almeno cambiate il colore no penso io perché secondo me almeno cambiare il colore ci sa devo finire ci prendiamo ok ecco il trucco è questo qui niente di che anche perché io non so fare niente di che lo dico sempre e magari se metto gli occhiali vedo anch'io quello che ho fatto ok niente ragazzi questo era un video perché avevo voglia di chiacchierare un po' io spero di avervi tenuto un po' di compagnia se volete ci vediamo al prossimo video ciao a tutte un po' di compagnia